Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo della liturgia d'oggi, il Signore pone ai discepoli una domanda decisiva. Voi chi dite che io sia? È l'interrogativo cruciale che Gesù ripete anche a noi oggi. Chi sono io per te? Chi sono io per te, che hai accolto la fede, ma hai ancora paura a prendere il largo sulla mia parola? Chi sono io per te, che sei cristiano da tanto tempo, ma, logorato dall'abitudine, hai smarrito il primo amore? Chi sono io per te, che vivi un momento difficile e hai bisogno di scuoterti per ripartire? Gesù chiede, chi sono io per te? Diamogli oggi una risposta, una risposta che venga del cuore. Tutti noi, diamogli una risposta che venga del cuore. Ma prima di questa domanda, Gesù ne ha posta ai discepoli un'altra. La gente, chi dice che io sia? Era un sondaggio per registrare i pareri su di lui e la fama di cui godeva. Ma la notorietà a Gesù non interessa. Non era un sondaggio del genere. E allora perché ha fatto questa domanda? Per sottolineare una differenza, che è la differenza fondamentale della vita cristiana. C'è chi resta alla prima domanda, alle opinioni, e parla di Gesù. E c'è chi invece parla a Gesù, portandogli la vita, entrando in relazione con lui, compiendo il passaggio decisivo. Questo interessa al Signore, stare al centro dei nostri pensieri, diventare il punto del riferimento dei nostri affetti, essere in poche parole l'amore di nostra vita. Non le opinioni che noi abbiamo su di lui. Non interessa a lui. Interessa il nostro amore, se lui è nel nostro cuore. I due santi che festeggiamo oggi hanno fatto questo passaggio e sono diventati testimoni. Passaggio dell'opinione a avere Gesù nel cuore. Testimoni. Non sono stati ammiratori, ma imitatori di Gesù. Non sono stati aspettatori, ma protagonisti del Vangelo. Non hanno creduto a parole, ma con i fatti. Pietro non ha parlato di missione. Ha vissuto la missione. È stato pescatore di uomini. Parlo non ha scritto libri colti, ma lettere vissute mentre viaggiava e testimoniava. Entrambi hanno spesso la vita per il Signore e per i fratelli. E ci provocano. Perché noi corriamo il rischio di rimanere alla prima domanda, di dare pareri, opinioni, di avere grandi idee e dire belle parole, ma non di metterci mai in gioco. E Gesù vuoi che noi ci mettiamo in gioco. Quante volte, ad esempio, diciamo che vorremmo una Chiesa più fedele al Vangelo, più vicina alla gente, più profetica e missionaria. Ma poi, nel concreto, non facciamo nulla. È triste vedere che tanti parlano, commentano e dibattono, ma pochi testimoniano. I testimoni non si perdono in parole, ma portano frutto. I testimoni non si lamentano delle altre e del mondo, ma cominciano da se stessi. Si ricordano che Dio non va dimostrato, ma mostrato con la propria testimonianza, non annunciato con proclami, ma testimoniato, testimoniato con l'esempio. Questo si chiama mettere la vita in gioco. Tuttavia, guardando alle vite di Pietro e Paolo, può sorgere un'oggezione. Ambe due sono stati testimoni, ma non sempre esempiari. Sono stati peccatori, eh? Pietro ha rinnegato Gesù e Paolo ha perseguitato i cristiani. Però, qui sta il punto, hanno testimoniato anche le loro cadute. San Pietro, per esempio, avrebbe potuto dire agli evangelisti, non scrivete gli sbagli che ho fatto. Fate un evangelio for sport. Invece no. La sua storia esce nuda, esce cruda dai Vangeli, con tutte le sue miserie. Lo stesso fa San Paolo, che nelle lettere racconta sbagli e debolezze. Ecco da dove comincia il testimone. Dalla verità su sé stesso. Dalla lotta alle proprie doppiezze e falsità. Il Signore può fare grandi cose, permesso di noi, quando non badiamo a difendere la nostra immagine, ma siamo trasparenti con Lui e con gli altri. Oggi, cari fratelli e sorelle, il Signore ci interpella, e la sua domanda è la stessa. Chi sono io per te? Ci scava dentro. Attraverso i Suoi testimoni, Pietro e Paolo ci sprona a far cadere le nostre maschere, a rinunciare alle messe misure, alle scuse che ci rendono tiepedi e mediocli. Ci aiuti in questo la Madonna, Regina degli Apostoli. Accenda in noi il desiderio di testimoniare Gesù. Angelus Domini, nunsiavit Maria. E tronceti di Spiritu San. Ave Maria, grazia plena, Domino Stecon. Benedita tui mulieribus e benedito fruttoventi tu, Iesu. E c'è un cilla Domini. Fiat mi, secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Domino Stecon. Benedita tui mulieribus e benedito fruttoventi tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis seccadolibus. Nunceti di Nora mortis nostre. E verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Domino Stecon. Benedita tui mulieribus e benedito fruttoventi tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis seccadolibus. Nunceti di Nora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. O putiligne e ficciamor promissionibus Christi. Grazie a Tua in questo modo, Domine, mentre vos nostri si infonde. O chi angelo annunziante e Cristi, figli tua, incarnazione con Iovim, per passione meios e crucen, a rassurrezioni, gloria per aducamor. Per Cristo un Domino Nostrum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Spiritus Sancto. Sicuterat in principio et nunc et semper, ed in secula seculorum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Spiritus Sancto. Sicuterat in principio et nunc et semper, ed in secula seculorum. Amen. Profideribus defuntis, requiemeterna donna eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requechant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex opnum Jesus ven seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Vifecit Cernum et Terram. Benedictum et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelli. Dopodomani, giovedì 1 luglio, avrà luogo qui in Vaticano una speciale giornata di preghiera e riflessione per il Libano. Insieme con i capi di tutte le Chiese presenti nel Paese dei Cedri, ci lasceremo ispirare dalla parola della scrittura che dice Il Signore Dio ha progetti di pace. Invito tutti ad unirsi spiritualmente noi, pregando perché il Libano si risollevi dalla grave crisi che sta attraversando e mostri nuovamente al mondo il suo volto di pace e di speranza. Il primo luglio ricorrerà il 160esimo anniversario della prima edizione dell'Osservatore Romano, il giornale del Partito, come lo chiamo io. Tanti auguri e grazie tante per il vostro servizio. Continuate il vostro lavoro con fedeltà e creatività. E oggi per noi ricorre un anniversario che tocca il cuore di tutti noi. Settanta anni fa, Papa Benedetto veniva ordenato sacerdote. A te, Benedetto, caro Padre e fratello, va il nostro affetto, la nostra gratitudine e la nostra vicinanza. Lui vive nel monastero, un luogo voluto per ospitare le comunità contemplative qui in Vaticano perché pregassero per la Chiesa. Attualmente è lui il contemplativo del Vaticano, che spende la sua vita pregando per la Chiesa e per la Diocesi di Roma, della quale è Vescovo e Merito. Grazie, Benedetto, caro Padre e fratello, grazie per la tua testimonianza credibile, grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio. Grazie. Saluto di cuore tutti voi, pellegrini italiani e di vari Paesi. Ma oggi mi rivolgo in modo speciale ai Romani, nella festa dei nostri Santi Patroni. Benedico voi, cari Romani, auguro ogni bene alla città di Roma, che grazie all'impegno di tutti voi, di tutti i cittadini, sia vivibile e accogliente, che nessuno sia escluso, che i bambini e gli anziani siano curati, che ci sia lavoro e che ci sia dignitoso, che i poveri e gli ultimi siano al centro dei progetti politici e sociali. Prego per questo e anche voi, carissimi fideli di Roma, pregate per il vostro Vescovo. Grazie. Buona festa a tutti, buon pranzo e arrivederci.